Anche per gli intellettuali, Piazza Marina Grande è diventato uno spazio funereo. Lo sottolinea in una nota il gruppo consigliare Perprocida. Nei mesi scorsi, in più occasioni come gruppo consigliare Perprocida, abbiamo avuto modo di sottolineare i tanti punti oscuri che nascevano dall'evolversi dei lavori legati al progetto Waterfront, finanziati con oltre 3 milioni di euro dalla Regione Campania. Gli attuali amministratori non hanno perso tempo a tacciare e liquidare le nostre osservazioni, dicono da Perprocida, come strumentali, politicamente scorrette, dettate da invidia e quant'altro. In queste ultime ore, attraverso i social, abbiamo potuto condividere le riflessioni formulate dalla critica d'arte Maria Gloria Conti Bicocchi, che ben rappresenta una realtà che appare chiara alla maggior parte dei cittadini procidani e non. Più passo dalla Marina di Procida, dice la Bicocchi, e più mi sento incredula. Dove sono finite le panchine pulite e razionaliste disegnate dall'architetto Cosenza? E perché sono state sostituite con queste che ora riempiono tutto lo spazio, con il loro marmo funereo nero e il loro schienale sagomato tipo mobili in legno in stile? E come è possibile che i procidani che hanno una storia importante di cultura e di gusto vero, quello marinaro dei piccoli porti e quello nobile dei palazzi borbonici, come è possibile che accettino che la loro isola venga deturpata in questo modo, incatenata ovunque, abbellita, con tantissimi vasi troppo piccoli e con contenitori per le immondizie in ferro battuto, nero fumo, mostruosi e indegni per un luogo tanto bello? Il problema non è mio, dice la Bicocchi, io sono davvero di passaggio e come sono stata qui 19 anni posso andarmene domani. Sono rimasta qui perché Procida era così speciale, da non voler altro che viverci e per questo lasciare anche la mia bella Firenze. Ma la mia tristezza è forte perché le persone che sono la forza di quest'isola, che ci sono nate come ci sono nati i loro antenati, non si accorgano che i loro nipoti e i pro nipoti troveranno un'isola che avrà perso la sua nobile eccezionale semplicità, la sua bellezza. Siete ancora in tempo, dice la Bicocchi, spero che tutti i giovani procidani intelligenti e le persone che con i loro antichi mestieri sono i portatori della cultura del luogo facciano sentire la loro voce e siano consapevoli che sono loro a dover scegliere come vogliono la loro isola e che accettare che vengano apportati restauri e arredi urbani sbagliati è un grosso sbaglio che può cambiare per sempre Procida. La qualità estetica della vita coincide con la qualità economica della vita. Un turismo speciale come quello che è adatto a questo paradiso non può trovare tanta mediocrità all'approdo. Siete in tempo a rimediare, basta del colore, rimettere le panchine semplici che c'erano metterne meno e soprattutto metterle dritte e non storte come sono ora togliere qualche catena davanti alla chiesa e anche qualche pilastro insomma restituire la spontanea fruizione dei luoghi senza continuare a tracciare percorsi obbligati con lucchetti, catene, vasi e vari slalom da seguire per muoversi. Ci meraviglia, dice il gruppo per Procida, che l'attuale maggioranza in altri tempi molto sensibile all'appello degli intellettuali oggi faccia orecchie da mercante e non provveda a prendere in considerazione quello che è diventato un sentire comune.